Due giovani coppie di sordomuti si reccano in un agriturismo per trascorrere una vacanza. L'incontro con la giovane e malquanto misteriosa proprietaria non renderà piacevole il loro soggiorno. Imago Voces, un corto di Tiziano Cella. Tiziano Cella Tiziano Cella Tiziano Cella Accomodatevi. Vediamo se mi ricordo. Alessandro. Simona. Giulio. Certo, Rossella, che sciocca. Sì. 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 Buongiorno. Bene, vi lascio allora. A domani. No, no. No, ma non posso. Grazie, ma non posso. Ok. Ok. Come? No, no. Ok. Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.